2 posti quello che c'è tu no eccolo grigio qual'è quello grosso stai zitto a lei vieni qua io non sto in macchina con marco no io sulla mappa ho soltanto il segnalino della mappa non ho in ecco davide sta sopra dove resta sopra eccoci sono solo ci notte la vita guarda quanti bei due posti guarda guarda che ben due posti c'è un'altra missione da fada e devo prendere qua la la cacca la cacca che cosa la cacca sbura adaci se ci sta se ti servono qua ci sono dei documenti e quelli dovremmo parlare con sto scemo qua un attimo missione recupera i documenti sempre marco davide comunque se tu andessi sono dei documenti allora cosa dobbiamo fare ok ragazzi facciamo a fare quella con la missione di prima di trovare a quello scemo proviamo se marco non si va scoprisi dove fa due chilometri e tre di distanza spettacolo cioè fammi prendere due munizioni un attimo e poi mi faccio una striscia che non c'è una raccista ragazzi alessio questa una moto ce la vuoi ce l'ho io ma una moto lo sappiamo perché sa bastarda non si dava dai coglioni ma in realtà per cose per 6 si un attimo stavo sparando a due persone che mi avevano visto ecco ma ecco 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 ha già fatto hanno fatto ma che cosa no è unità ma scatto scappa che te ne fotte ma veramente ecco che io sto schiando addosso la macchina ovviamente tanti cazzo come hai fatto io l'ho evitata a me invece funzionato strano perché marco la b marco a lei mi seguo a me anche se vado nell'altra corsia mi ha seguito e non scelta la sua guida purtroppo per caso per che più faccia guida la moggetto ecco qua fanatico doveva parlare nel farlo fango un po della madonna vera e invece la moto cilettina quella stronti di indiani io c'è quello di marco mi sventola in faccia come ci vedremo da grosso parte molto insieme ok andiamo al peta ferma di marco ferma di questa facciamo una cosa carina ma voi che stavano pure tutte ma un motoretto di merda siamo se marco vieni qua 32 marco sta a piedi ma sapere che cosa che stavamo questo tiro della vita con la motocicletta ma io vedo che io vedo che tu corri tipo e riportare sospettati così a fare improvviso aspettato ricercate lo ci stava sparando grazie correndo di nuovo veloce vediamo se lo vedo quando vediamo se lo vedo quando vediamo se lo vedo ecco in ben avuto in che quando scende per il suo di ben nato non c'è un po di spirito di gioco aspetto aspetta mamma mia marco non si sa divertire il giornale con i partiti quello fa sgommatina con la x ciao ma marco come chiama così piano la nostra motocicletta che ragazzi complimenti ha presentato proprio contro di loro ragazzi nascondetevi nascondetevi dall'unità infrasciatevi dentro la natura allora mo il piano qual è ma qualcuno ha preso una motocicletta come non ci chiamo quello dove come cazzo non ci chiamo sono rimaste ragione no aspetta io posso chiamare il veicolo aspetta no marco perché poi io prendo la motocicletta allora andiamoci a una seconda aprile pure la motocicletta ho cazzo mai visto uno ecco ho messo il suo corazzato qua era vicino ragazzi ok la missione ora inizia ragazzi aspettiamo che esce come si è stato scoperto chi si è fatto scoprire chi si è fatto scoprire ma perchè mi hai detto che sono stato scoperto io stavo dietro una pietra io stavo dentro le frasche io stavo dietro una pietra c'è stato scoperto oddio di nuovo ma perchè ma non ci ha visto nessuno io stavo dietro una pietra voglio ma se tipo li ammazziamo sti cecchini di merda c'è io non la capisco la missione comunque marco stavo di quella missione ci siamo riusciti a farla prima io alessio che prende bastava aspettare fuori e quello la se ne scappa e poi lo insegui solamente che ci hanno beccato non so come che ci siamo messi un po troppo vicini alla strada e quello era ma però cristo ah ma parte sta missione si è paggare marco, Hey vieni- vem vieni vieni mettietà la mini canna ecco eh se hai visto qua aspetta marco, ferma SIIII! madonna ma hai visto marco che dribbling che ho fatto? EH Per cambiare posto Passa per me il bottone comunque Io devo andare dietro Questo dobbiamo ammazzarlo immagino Non lo so Trova la figlia di Baro Trova la figlia di Baro Baro Siamo arrivati ragazzi Io mi butto Io non faccio un cazzo Aspetta faccio una cosa Voglio togliete il fucile Che sennò mi si mettono paura Mi rompe io Fate fare a me grazie Per favore Vediamo chi trova prima La sua aldria Guarda non so perché Ma è dentro quella casa Qualcosa dice che è qua dentro Chissà perché Oddio è là dentro Non ci possiamo credere Aspetta che la interroga così Davide fa l'interrogare Allora 6x6 quanto fa Siamo in una scuola interrogata Oddio se ne sta scappando Ma la figlia di Baro Ma dove ho preso? No A dove vai? Ma io volevo soltanto parlarci Voglio fucili puntate per favore No questo non fa niente Io non gli posso sparare adesso Beh Poverino Non lo so io C'è un po' tant'a voglia di parlare Meggio Che gli hai dato? Che gli hai dato? Telefonino Che ne sa questa posizione Telefoni Questa è la campana Spara 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 Mi metto la pistola D'onore Questa Dice che siete malvagi E pericolosi Ma Toma Ma Ma No Dobbè andare a 2 km da qui Ale Che cazzo Che sta strontano Balla 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 il tip da Imbecille Vaffanculo Sta poligiana di merda Ce la fai Eh io sto in moto Vai vai Parti Questa missione è stata facile Per ora Che se sta abbastanza Beh Avevamo soltanto Adosso Una Voglio Un gel Caga Spurato addosso No Sgorgo Intestinale Ma ci avete visto A me vestito Come un bagliaccio A te o Quella specie Di cosa dietro La schiena Davide No no Ci sono gp Cazzo Alla spara Sbagliatessa Invece Fanno cosi Di 6 No Quelle l'unità Che vuoi sparare Andare a unità Ma che io Non ho capito Cioè scusa Quelli sono dei ribelli C'è noi siamo Nei ribelli Quelli sono Atto No 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 Decontractor Che dobbiamo Sto a di Le due fazioni Sono Ribelli No Che cazzo Dici Sì Scusa No Sono Ribelli Cartello Unidad Cioè noi Siamo contro Il cartello Ma perché Unidad Sta pure Col cartello C'è L'unità Che sui militari Puntebassa Sì Tipo Le guardie Sono Quelli Quelli Che c'hanno I soldi È una milizia Privata Sui Shop On Eh Quelli Se termini Non so se mi posso avvicinare Perché a fine Mi sono La vita Come No La La Tappa Quella Che L'unità Beh io ci vado A cazzo Dur mi interessa Sì infatti Tanto si ha scritto cattura Perciò possiamo pure catturare Oh cazzo No no Non era da fare A viso aperto Oh cazzo C'era l'unità Eh vabbè Aspetta Lo prendo L'ho preso Preso il porco No vieni qua Portalo dentro Portalo dentro Portalo qua dentro Schiaffalo dentro Alla Alla macchina Tra l'ho messo dentro qua Non mi interessa Battene via Marco Lo che uno mi copre Marco come che c'è Vieni qua C'è qualcuno che mi copre Che sto con il camioncino Arriviamo noi Aspetta Però non partiti Davide Emo quelli di ringorrono Marco ma tu devi partire Veloce Dove sta Davide Dove sta Davide Dove sta Davide Marco Eh E questo è lo camion Davide Dove è lui Il registrito Dei azzo sopra Marco Marco vai Di paura Ragazzi ma non mi è rivellato di colpi Aiuto Vado Marco C'è un barco macchina dietro Marco c'è un barco macchina dietro Sono strada Ragazzi sono fottuto C'è un barco macchina dietro Ma Marco come hai fatto a non vedermi dove andavo? Eh perché avevo visto un camion partire Però non ho visto Ma secondo te può mai essere lui? Guida troppo bene Ah questo pure è una cosa giusta vero C'è un altro Ciamioncino davanti a noi Fallo fuori Vabbè se è rincoglionito eh Ma guarda tu sto cazzo di furgone di merda Non so se posso scendere qua No lo devi Lo devi pigliare e lo devi portare vicino Alla porta della casa Ok lo guiglio scendo Ma perché se io giro a sinistra sto coso se ne lavava i cazzi suoi? Perché tu non lo segui da Cioè sto coso devo anticipare la manovra di tre quarti d'ora non ho capito No se tu non lo segui da Ah dobbiamo portarlo dentro Davide Regà voi stai a vedere il filmato? No Non sto entrando eccomi Ecco Forse ne avrò io E questo è un vecchio È il vecchio È il vecchio Presidente degli Stati Uniti America No È il vecchio Credo di avere ancora qualche uomo fidato che la vede come me E ho un amico, un colonnello nell'esercito potrebbe aiutare Ma per questo ci vorrà un po' di tempo Io non ho capito un cazzo quello che hanno detto Ma neanche io ho soltanto capito burocrazia, burocrazia, burocrazia Ma è perché è notte? Perché No è notte Adesso è notte vedi Non è notte Non è notte vedi Ma 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 è notte vedi